Valle Foglie è andata strabene, nel senso che l'EPD è il primo partito, abbiamo eletto i due sui quali avevamo puntato, c'è Biancani e Vitri in questa ballata. Per cui che riguarda la politica più generale, mi pare che la faccia di Salvini non era proprio sorridente, perché puntavano da vincere sette regioni su sette, del resto l'aria era più favorevole al centro-destra che al centro-sinistra, hanno mantenuto le tre che avevano, più hanno vinto le Marche. Ma se pensiamo che pensavano di vincere la Toscana, la Campania e la Puglia, 20 milioni di persone, invece le ha vinte tutte e tre al centro-sinistra. Quindi pari e patta palla al centro, certo mi dispiace per le Marche, ma questa è la democrazia, la logica dell'alternanza, bisogna capire dove ci sono stati degli errori, chi fa la regia politica perché io mi occupo di Vallefoglia e poi ci si riprepara per la prossima partita, come avviene ormai nella vita politica e democratica in un paese dell'alternanza. Sul piano politico più generale mi pare che questo Governo stia facendo un ottimo lavoro, arriveranno tanti soldi, spero tanti anche a Vallefoglia, al di là di chi governa, dall'Europa, dal Governo nazionale e anche nelle Marche, quindi incalzeremo il nuovo Presidente, gli ho già mandato un messaggio di buon lavoro e di congratulazioni perché quando uno vince si fa così, e poi incalzeremo. Penso che se la legislatura va alla fine i due poli, centro-sinistra e centro-destra, dovranno decidere dove stare i Cinque Stelle, ma se stanno con noi a Roma penso che dovrebbero stare con noi. La partita per il Governo del Paese penso che sia tutta da giocare, nel senso che le regioni sostanzialmente, è vero che sono 15 regioni centro-destra e 5 al centro-sinistra, ma in quelle 5 regioni stanno metà degli italiani, metà degli italiani sono governati dal centro-sinistra in queste 5 regioni, cioè Toscana, Emilia-Romagna, diciamo Lazio, Campania e Puglia, e il resto mi pare che si sta riaprendo una bella discussione dentro il centro-destra, per la leadership, fra Salvini che cominciano già ad aprire una discussione dentro la Lega, fra Meloni e Fratelli d'Italia, dentro Forza Italia, il centro-sinistra bisogna ritrovare un po' la bussola. Ecco, io penso che ritrovando insieme la bussola si possa fare gli interessi dell'Italia e degli italiani, intanto in questa legislatura che dovrebbe andare alla fine. E poi si rigioca la partita e vinca il migliore. Per quel che riguarda Vallefoglia, noi stiamo lavorando a velocità supersonica, Vallefoglia è tutto un cantiere pubblico e privato e la gente, come si è visto, ha apprezzato.